La preghiera, il raccoglimento e lo struggimento per la morte dei giovanissimi tifosi del Foggia non lascia spazio a null'altro, soprattutto alle polemiche. Una veglia di preghiera ha coinvolto ieri l'intera comunità foggiana, l'intera squadra, capitanata da Ezzolino Capuano e dal presidente, ha raggiunto la cattedrale, dove il Vescovo ha tenuto un lungo e commovente discorso. Vorrei abbracciarvi tutti, dice, vorrei abbracciarvi forte, abbracciare le famiglie di Gaetano, Michele e Samuel, abbracciare i loro amici e compagni. Vorrei abbracciare tutti i giocatori e i membri della società del Foggia, ha continuato, spero che sentiate il calore dell'amore di Dio in questa casa. Ha finito tra le lacrime. Non terminerà qui, perché Foggia è una città distrutta, ma unita nel dolore, come lo sono stati gli Ultras in questi giorni, che in maniera trasversale hanno mostrato il loro cordoglio e la loro vicinanza alle famiglie. Tutto questo amore ha spezzato via anche una polemica, di fatto inesistente, quella che riguarda lo spostamento della gara tra Foggia e Catania in programma per domenica. Al Catania non sarebbe pervenuta alcuna richiesta ufficiale, mentre da indiscrezione pare ci sia stata solo una telefonata tra Canonico e Grella. Il sito foggiano che ha lanciato la notizia del diniego degli Etnei si è prontamente scusato sulla sua pagina social. Intanto manca solo l'ufficialità, ma la camera ardente dei ragazzi dovrebbe essere allestita nella giornata di domani allo Zaccheria. La volontà dei genitori di pregare insieme per i ragazzi impone di trovare un luogo grande e più accogliente della cattedrale. Lo stadio è la situazione ideale per celebrare ancora una volta la passione rossonera di Samuel, Gaetano e Michele.